Nonno? 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 Che c'è? Che c'è? Che c'è? Amore Dio... Voglio farti una domanda Eh sì, fa una domanda Ma perché l'uomo è comparso sulla terra? Perché l'uomo è comparso sulla terra? Perché l'uomo è comparso sulla terra? Sì Perché se comparì sull'acqua affoga Nooo Nonno, torna a dormire che è meglio Torna a dormire? Sì 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 Sì